let's go bitches benvenuti a nella mente di un codero su battlefield vediamo di utilizzare tutte le conoscenze di cod qui su battlefield allora caliamoci missione suicida via fuori 1 fuori 2 via quella pistola morto continuiamo c'è nessuno ricarichiamo allora aspettiamo un secondo via di granate per vedere dove sono i nemici vediamo se c'è qualcuno nell'angolo a destra ma se non c'è nessuno hanno eccolo a contrattacco bello a rado facile torniamo su garichiamo affacciamoci dal muro cazzo un cecchino manco l'avevo visto mi ha snippato in testa peccato comunque continuiamo quanto stanno fatto due vabbè scialla lasciamo su inside manzo che lo vedo già bello avanzato io ho distrutto due basi ora passiamo alla prossima dobbiamo eliminare le ultime forze nemiche rimaste cazzo stanno a sparare da nessuno malati comunque andiamo avanti ora si avanza c'è un tank noi non ce lo paghiamo c'è un nemico però dietro di noi hanno ammazzato allora ora qua due miei consigli è riuscire ad arrivare fino ai muri quelli laggiù che sto mirando il fatto è come aspetta resuscitiamo questo voglio farli sempre resuscitare al 100% dei compagni perché possono poi morire di nuovo oddio non l'ho visto sempre con le scritte dei miei compagni che mi coprono la visuale peccato però mi hanno resuscitato grande curiamoci via fuori uno allora ci dobbiamo cercare di avvicinare di quel punto dobbiamo cercare di arrivare lì c'è un cecchino che ora mi sparerà sicuramente io guardo a terra il saltello questo muore bene mi siamo arrivati direttamente in base ora da qua possiamo salire sopra l'edificio e cercare di uccidere quelli che diciamo i rinforzi avversari fate sempre brevi raffiche quando sparate da lontano stiamo già piazzando ottimo fan perché corrono verso sinistra sti malati? carica piazzata sull'obiettivo ALMA allora uscidiamolo velocemente sennò rischio di rimorire controllate la zona ci sono dei rinforzamenti ottimo abbiamo già cacciati via da qua uscidiamo la prossima base stiamo distruggendo tutti velocemente aia 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 ecco questo non doveva accadere questo è male questo è male la granata è male gliela tiro pure io la granata passo di merda passo di merda passo di merda allora vediamo di andare da questa parte riusciamo a fargli tutto il giro a finirgli dietro abbiamo svoltato è quello che cercheremo di fare andiamo 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 la mia vole è di trovare qualcuno che sia già piazzato qui ok no ora andiamo a piazzare alla bomba più difficile che è B da sotto dove di solito qua non ci guarda nessuno almeno in pochi la cosa bella è che ci sono tante vie quindi la gente deve stare veramente attenta per non farsi mescare da tutte le parti hanno già piazzato B interessante pensavo che era difficile piazzavo cioè di solito è difficile di morire il nemico ha rivolto la carica piazzata sull'obiettivo bravo allora uno è sul tetto fate questo sempre perché qui almeno sarete più coperti se c'è qualcuno giù in fondo allora io la piazzo ricordate che quando piazzate potete anche muovervi eh come sto facendo ora io vedete è pisciato praticamente vediamo un pochino di uscire da qua ora questo mi vuole venire da dietro bastardo ti ho tornato ottimo quindici colpi non abbiamo nemmeno proiettili sempre meglio la situazione diventa comunque ora che sta crollando tutto aspettiamo un suono i nemici stanno sotto mi sa sono tutti sui tetti ottimo quindi noi passiamo da sotto così non ci trovano qui è crollato il mondo sapete che vi dico io da fare un'incorsione sui tetti mi sono stufato non lascerò mai che quelli rimangano là vivi sui tetti vediamo di non morire papo privato coppa continuare papo privato 特 Libritto Colleglio interessante che non siete nessuno ho condito delle munizioni non capisco perché in questo gioco nessuno butta le munizioni che sono fondamentali poi ti danno un botto di punti però non lo capirò mai bella, non chiuso l'ai non si può riaprire fanculo però capito e noi ce ne andiamo non penso mi sparino nella schiena cioè dai, vi prego come non detto, via saltate ogni tot non ripetutamente perché sennò non si schivano i colpi no, no allora, targettiamo qualcuno nessuno da targettare allora di fare l'infiltrazione tattica infiltriamoci let's go vediamo un pochino cosa c'è allora, uno là allora, ora il problema è salire su quella cazzo di torre se avere dei mezzi con cui con cui arrivarci tipo paracadutandosi eccetera eccetera è un po' difficile però noi sfruttiamo la parte stealth del gioco merda un tizio ok, morto poi si, inculo l'arma no, è uno scout merda vediamo è il momento di salire adesso lo resto via con le granate merda allora, saliamo prima sopra prima di piazzare che magari c'è qualcuno nessuno dai, su ci siamo uccisi a vicenda che sfiga oh ah, questa è una cosa che odio di questo gioco il fatto di uccidersi a vicenda però non fa niente dai, muoviti fammi rinascere dai compagno penso che sta a fa' ancora qua cosa fa' sto malato dobbiamo andare ad attaccare questo sta ancora in base a cercare i cecchini di merda vai fuori un cecchino di merda andiamo non so se salta schiacciato una volta e b fa un salto più lungo no mi regodo allora dovrebbe essere facile arrivare fino a là facciamo come a primo facciamo il giro a destra se non ci vedono eliminiamo le forze nemiche e andiamo c'è nessuno su quella torre di merda vedi quella casa vera del cazzo laggiù vai 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 è il momento di salire è il momento di salire è il momento di salire tutti assieme tutti assieme vai muori merda perfetto possiamo passare non c'ho vita però c'è un'altra però non fa niente sta esplodendo qualsiasi cosa e l'abbiamo abbiamo piazzato si win non penso che riescano a salire qui sopra c'è un'altra non c'è un'altra potremmo potremmo aver vinto a mani di assistenza soppressione yes let's go abbiamo vinto spero vi sia piaciuto questo video fatemi sapere perché vedrò di farne altri magari di migliorarli questa è solamente una prova spero vi piaccia bella bella bitches iscriviti al nostro canale